Siamo con Antonella, anche qui la raccolta continua. Nonostante la signora sia molto pratica, nella raccolta ci dice che è la prima volta per lei anche quest'anno. Perché non le ho mai viste e mai conosciute, però ho assaggiato il trignolino, la marmellata e allora le volevo conoscere, più da vicino. Bene, lei ha seguito anche il convegno questa mattina? Molto interessante. Allora, da che ora siamo qua più o meno e abbiamo già fatto una bella raccolta? Sì, insieme a tutti però, perché quest'anno vedo che sono secca, hanno detto gli esperti, non io. Allora, mi raccomando, buona raccolta e il gruppo, ricordiamo che il gruppo vincente, chissà, potrebbe anche essere questo. Grazie. Siamo con uno dei gruppi che è qui, appunto, nelle zone limitrofe di Bagnoli del Trigno, in questa Trignolato 2014. Siamo proprio con Franco Rossi, il capolider di questo gruppo, dottore in agraria, esperto in piatti ufficinali. In questa circostanza appunto fa da cicerone a questo gruppo. Speriamo bene. Come è andata quest'anno, come sta andando intanto la raccolta e come è andata anche naturalmente la proliferazione di questa pianta? Allora, quest'anno è un'annata negativa per il prunus, perché durante la fioritura ci sono state delle condizioni avverse, bassa temperatura, piogge, quindi è stata impedita l'allegagione del prunus e quindi ci sta una carenza, ma una carenza generalizzata. Quindi siamo andate a intercettare quelle piante che erano sfuggite a questi inconvenienti, ma sono pochissime. Infatti abbiamo fatto una mappa del territorio dove ci stavano delle siepi che avevano qualche frutto. Poi ci stavano pure delle malattie, sono subentrate proprio per la stagione avversa, tipo la monilia e il corineo. E quindi la qualità diciamo che non è delle migliori. Ecco, ci sono quattro i gruppi che in questa mattinata si sono appunto in qualche modo separati per raccogliere il frutto del Trigno. Come vi siete appunto organizzati? Quali sono le altre zone all'interno del bacino di Bagnali del Trigno in cui appunto sono localizzate? Quattro squadre, cioè quattro squadre che sono andate in altri posti dove abbiamo individuato, avevamo individuato in precedenza le piante che avevano dei frutti. E quindi ci siamo un po' suddivisi, le persone che partecipano le abbiamo divise in maniera più o meno equa, in base alla quantità di prodotto che ci stava dalle visite preliminari. E quindi abbiamo diviso equamente queste persone, i partecipanti alle squadre. Ecco, abbiamo ascoltato questa mattina durante il convegno i primi risultati da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, piuttosto soddisfacenti. In annate come queste dove ecco magari il prumus è come dire magari in quantità, scarseggia eccole dice meglio di me, qual è la soluzione che potrebbe essere trovata per averne sempre a disposizione proprio visti i risultati positivi? Allora la soluzione è che dobbiamo mettere a dimora campi di prumus. e già abbiamo predisposto degli appezzamenti per il trapianto di queste piante e quindi fare una coltivazione, cioè coltivata, la coltivazione di questo prumus, anziché pianta spontanea, pianta coltivata. Quale sarà il procedimento? Come intendete procedere al fine di creare questi campi, queste piantagioni di prumus? Allora l'approvvigionamento delle piantine o da un vivaio specializzato oppure ce le facciamo noi, facciamo delle talee di piante autoctone che vivono qui, le andiamo a individuare sul nostro territorio, quindi facciamo delle talee e poi le mettiamo sul terreno da cui nasceranno delle piante, si svilupperanno altre piante, una pianta vera e propria. Quindi la talea emette radici, la parte radicale, la parte che sta nel terreno, le gemme che vengono interrate emettono radici, la parte, le gemme superiori fuori dal terreno emettono i getti, i frutti, le foglie. Quindi diciamo che il futuro, a parte naturalmente qui a Bagnoli, oltre le vostre ricerche che normalmente eseguite su tante altre specie appunto di pianti che mirano proprio alla fitoterapia in questo caso, sono rivolte anche appunto al primus pinosa che ha davvero ottimi benefici. Certo, certo. Quindi altre piante ci stanno qua in zona, però il prunus adesso sta sotto la nostra lente di ingrandimento per sfruttarne tutte quante le proprietà che ha. Ed eccoci con lo chef del calice rosso, Marx Dinella, che ha preparato un menù davvero stupefacente per questa seconda edizione Trignolata 2014. Allora, chef, complimenti. Un menù, ricordiamo i nostri telespettatori, a base e sicuramente di piante officinali che sono state utilizzate proprio tra gli ingredienti che lei ha utilizzato. Sì, anche questo menù, come molte delle manifestazioni della Domus Aria, hanno come principe le erbe officinali. Oggi abbiamo valorizzato il Trignolino per la raccolta dei trigni. Siamo partiti appunto valorizzando il Trignolino con un aperitivo che era un Trignolino Spritz, ovvero un Trignolino fatto in versione Aperlo Spritz con l'arancio in forma di gelatina. Poi siamo andati su un antipasto richiamando un po' la tradizione molisana. Abbiamo fatto un pancotto chiamato simpaticamente del pastore. Quindi un pancotto con le erbe di campo, la cicoria, lo spinacio e impreziosito di, in questo caso, il timo coltivato nelle nostre terre e del caciocavallo bagnolese. Siamo andati poi come primo a dei ravioli. Abbiamo scelto quest'oggi di fare dei ravioli ripieni di carne. Abbiamo fatto un buon brasato alla tintilia vino molisano e al quale abbiamo aggiunto la borragine, un'altra erba spontanea molto gustosa e saporita. Passiamo al secondo con un cappuccio di verza dove all'interno c'era una polpettina di manzo servita e impreziosita con una caponata di verdure alla salvia. Abbiamo concluso il menù con una spuma di ricotta leggera brulè. Abbiamo richiamato in questo piatto la ricotta che qui in Molise da noi è tipica, è uno dei nostri fiori all'occhiello dei prodotti caseari. L'abbiamo fatta brulè, questo termine, questo francesismo, dove si va a creare una sorta di crosticina con lo zucchero bruciato. Qui l'erba è stata messa di contorno al dolce perché l'abbiamo accompagnato con delle mele marinate alla melissa. Ecco, chef, lei come diceva appunto poco fa non è la prima volta che utilizza appunto piante officinali per la preparazione del suo menù ma quali suggerimenti possiamo dare ai nostri telespettatori affinché possano in qualche modo anche nell'uso comune dei loro piatti quotidiani utilizzare appunto nella maniera più frequente possibile le piante officinali che ricordiamo hanno tantissime proprietà. Allora il mio consiglio innanzitutto è come diceva lei poco fa è di utilizzare le erbe aromatiche, officinali quindi. Utilizzarle perché danno tanto all'organismo. Poi sul come bisogna essere un po' fantasiosi. Diciamo ci sono delle erbe che si prestano meglio con la carne erbe che si prestano meglio sul pesce o anziché sulle verdure. L'importante è, come diceva un mio chef quando ero ragazzino un cuoco deve avere nella sua cucina almeno otto erbe. Io ne ho molte di più perché poi mi sono appassionato a tutto ciò però a casa usiamo le erbe. Magari il consiglio fondamentale che do è quello di non soffriggerle di non bruciarle ma soprattutto di usarle piuttosto verso la fine delle cotture. Per esempio il classico spaghetto pomodoro e basilico per fare l'esempio tra virgolette più banale. Il basilico mettiamolo in ultimo perché non solo le sostanze nutritive ci danno molte più sostanze nutritive ma poi anche il sapore, il profumo, l'odore è maggiore se usato a fine cottura anziché magari soffritte. Tra i suoi menu troviamo spesso anche le erbe di campo. Per quanto riguarda sempre i nostri telespettatori come è possibile trovarle e essere certi di mangiare qualcosa di assolutamente buono? Allora per trovarle bisogna avere un attimino la conoscenza delle erbe per esempio la cicorietta selvatica quello che qui in gergo si chiama il cacigno la borraggine stessa sono tutte erbe che in natura si trovano facilmente bisogna avere un po' di conoscenza Dal fruttivendolo si trovano? Dal fruttivendolo quasi tutte dal fruttivendolo quasi tutte si trovano se poi uno si vuole fare una passeggiata magari internet oggi offre un mondo di opzioni quindi si fa una piccola cultura prima e si va a cercare le sue erbe un consiglio importantissimo che do io non raccogliete le erbe a bordo strada perché il traffico a volte o nei pressi delle città un bel ambiente aperto è più salutare a Grazie a tutti.